Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene nel vostro cuore, nella vostra vita, nella vostra famiglia, nella vostra casa. Buongiorno per tutto il giorno. Oggi celebriamo la prima domenica di Avento, l'anno liturgico B. Il Vangelo è di Marco. Siamo nel capitolo 13, versetti 33 a 37. Ascoltiamo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. E come uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque. Voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte, o al canto del gallo, o al mattino. Fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti. Vegliate. Parola del Signore Come abbiamo sentito in questo brano di Marco, vediamo, perché non sappiamo quando il padrone di casa ritornerà. Ma è una necessità il suo ritorno. È una certezza. Il profeta Isaia, nella prima lettura, lancia questo grido. Ritorna, Signore. Effettivamente abbiamo bisogno di lui per cambiare la faccia della terra, perché vorremmo un cielo nuovo e una terra nuova. Seconda lettura, San Paolo, parla della manifestazione del Signore. Giustamente, questa manifestazione è soltanto il suo ritorno. Però noi siamo arricchiti nel Signore, dice San Paolo. Allora, ognuno ha il suo carisma. Nulla ci manca. Il problema è che, quando lui tornerà, deve trovarci, svegli, ha detto il Vangelo. Non dormiamo, veliamo. Quel giorno suo non deve essere un giorno improvviso, che ci piomberà addosso. Ma è un giorno in cui tutti saremo pronti per incontrare il nostro Redentore, colui che viene a cambiare la vita nostra. Ecco, carissimi, invochiamo lo Spirito Santo per darci la forza di vegliare, di non lasciarci addormentare dalle cose di questo mondo, ma di vegliare, cancellare ciò che non confessa il nome di Cristo e di prendere ciò che confessa il suo nome per giustamente entrare nella sua gloria. Allora, carissimi, vediamo, non dormiamo. Vi auguro una buona e santa domenica.